Uno degli edifici più suggestivi di Tricase è la chiesa della Madonna di Costantinopoli, conosciuta anche come la chiesa dei diavoli. La chiesa venne fatta realizzare in aperta campagna nel 1685 da Jacopo Francesco Arborio Gattinara sotto il principato di Stefano Gallone per omaggiare la Santa Vergine. Sul piazzale dell'edificio si sono celebrate per secoli diverse importanti fiere agricole oramai cadute in disuso. La più antica, istituita dal Marchese della Gattinara subito dopo la realizzazione della chiesa era intitolata allo Spirito Santo e si teneva il giorno di Pentecoste. All'Ottocento risaliva invece la fiera dedicata al patrono di Tricase, San Vito Martire, programmata ogni 15 giugno. La particolare architettura dalla forma ottagonale ha sicuramente influenzato il nascere di antiche leggende. Infatti, secondo alcuni racconti Tricasini, l'edificio venne costruito dal diavolo su richiesta del vecchio principe.